Mi hai rotto le costo e... Che tempo che fa, Luciana Littizzetto in lacrime dal dolore, il siparietto fuori programma finisce malissimo. È stata un'altra grande puntata del format di Fabio Fazio in Onda su 9. È successo durante la puntata di domenica 21 aprile 2024. Tra gli ospiti della puntata anche il fenomenale Roberto Bolle. L'uomo è stato chiaramente osannato dal pubblico e dai due padroni di casa, Fabio Fazio e Lucianina Littizzetto. E proprio l'ospite in questione, in un attimo d'amore per la comica, ha deciso di farle una sorpresa e prendere in braccio. A questo punto la donna ha urlato. Ah, me la spaccata di nuovo, la costola, sono sicura. Il ballerino allora l'ha subito messa a terra dopo un grido di dolore molto acuto. Dai, non faccio danni, non ti tocco più. Lucianina allora ha raccontato. Lui sai cosa fa? Mi mette addirittura le dita dentro le costole, tra una e l'altra. Fabio Fazio non smette di ridere a questo punto e la donna non ci resta benissimo, ma vaffanque asterisco lo. Non a te, a lui, guarda come si diverte, come un pazzo. Ma perché Fazio se la ride così di cuore? Beh, basti pensare che questa cosa è già successa. Proprio così, già una volta, Roberto Bolle ha clonato una costola a Luciana Littizzetto. Era il 2019 e il ballerino, durante un'ospitata a che tempo che fa sulla Rai, decise di sollevare la comica torinese e lei si rifiutò. La donna allora ha raccontato. Una volta Roberto mi ha sollevato e mi ha rotto una costola. E chiaramente Luciana Littizzetto oggi, ogni volta che vede Roberto Bolle, ha chiaramente il desiderio di non rompersi qualche osso, soprattutto una costola visto che sono le più fastidiose forse. È per questo suo timore che Fabio Fazio non ha smesso di ridere, sapendo bene che Luciana Littizzetto lo teme più di ogni altra cosa. E invece?